Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. In questo veloce video di oggi vi voglio dare 5 consigli per i migliori regali che vi potete fare per questo Natale. Saranno, non saranno tutti quanti giochi da tavolo, ve lo dico, saranno giochi da tavolo, giochi di ruolo e anche ci voglio mettere roba della Games Workshop appunto per andare un po' a interessare tutti quanti i palati e anche coloro che mi seguono e che non giocano prettamente giochi da tavolo quante Wargame. Quindi vi voglio dare 5 consigli per giochi usciti ovviamente da poco o comunque ancora riperibili, non vi vado a prendere giochi capolavoro ma che ormai non si trovano più e vi ricordo che potete ordinare direttamente dal nostro negozio sponsor Gioco Libre di Asimola ma quello ve lo dirò alla fine, dopo la sigla. Partiamo col primo prodotto che tra l'altro nei prossimi giorni vedrete anche sul canale perché ci ho fatto un video il primo gioco per la famiglia, per tutti quanti, quindi il classico gioco che potete far provare e mettere a tavolo chiunque e Mysterium Kids, questa è la versione di Mysterium che se vi ricordate ho già trattato sul canale e che ha anche diverse copie stand alone, diverse espansioni stand alone molto interessanti come ad esempio Mysterium Park che è la variante appunto ambientata dentro un parco giochi, ovviamente a tema gotico horror. Perché ve lo consiglio? Perché è un gioco veloce, immediato, per tutti, per davvero qui non è che c'è però per fan del genere per persone adulte, per ragazzini, no no questo è un gioco per chiunque perché le meccaniche poi come vedrete nel video più approfondito sono molto veloci e un giocatore dovrà, una squadra dovrà collaborare e un giocatore farà a turno a girare quindi è bellino perché il ruolo del fantasma se lo passano anche diverse persone al tavolo appunto è il ruolo del fantasma e ci sarà un tamburello. Questo giocatore che fa il fantasma dovrà girare una carta indizio, guardare il numero che c'è dietro e poi guardare a quale numero si riferisce sul tavolo magari il numero uscito è il 5, la carta 5 è un gatto e lui col tamburello dovrà fare dei suoni qualsiasi, può graffiare, può battere, ci può lisciare sopra la mano per cercare di far capire qual è la carta uno potrebbe dire è un gatto, potrebbe fare... graffiare così e uno potrebbe pensare graffi, boh graffi potrebbe essere il gatto se i giocatori indovinano prendono una carta tesoro, se sbagliano non prendono niente ovviamente è un gioco dove si collabora tutti perché anche il fantasma va a girare quindi il fantasma cercherà sempre di dare un indizio per fare appunto indovinare la carta quindi è un gioco molto veloce, dà la durata di 20 minuti al tavolo si fa anche volentieri una partita per Natale magari o per i giorni di festa anche la domenica magari al tavolo insieme alla famiglia dopo un pranzo veramente si intavola in 3 secondi perché ha poco contenuto, quello giusto ed è un gioco divertente per tutti quindi secondo me assolutamente Mysterium Kids perfetto per far giocare un bel gioco a tutta la famiglia un gioco a tema Harry Potter visto che a breve nel giro di se non erro due mesi per PC che già in fase gold uscirà Hogwarts Legacy tra l'altro il gioco che sto attendendo più di tutti nel 2023 quindi non vedo l'ora che esca, ci nerderò da paura un gioco a tema Harry Potter, anche questo consigliato e uscito da poco per tutta la famiglia ed è molto bellino e interessante perché bisogna lanciare trovate tutti i giochi che vi sto trattando, ci ho già fatto il video dovete lanciare incantesimi e dentro la scatola ci sono proprio le bacchette e ce ne sono diversi di bacchette anche note dei personaggi della saga e quindi è bellino perché dovete riuscire a beccare i giusti incantesimi per poi lanciare uno stupeficium addosso al vostro avversario e vincere la mano questo a differenza di altri giochi è un gioco competitivo quindi non è un gioco di squadra, qui si gioca per vincere la partita ed è veramente interessante perché è un titolo veloce è un titolo ovviamente dove ci sono tutti quanti gli incantesimi più noti della saga di Harry Potter le case, le quattro case di Hogwarts ed è un gioco bellino perché questo è sia per i fanatici di Harry Potter che anche per farci giocare magari un ragazzino o qualcuno di più giovane quindi anche questo è un titolo secondo me che potete mettere a qualsiasi tavolo dovute spiegazioni che dovrete ovviamente esporre ai giocatori però è un regolamento molto veloce, molto immediato e poi bellino perché a me piacciono quei giochi dove c'è anche una componente fisica e tipo proprio la bacchetta dei maghi o delle streghe di Hogwarts da puntare addosso al vostro avversario per poi lanciare lo stupeficium un altro titolo molto molto bello che si trova ancora facilmente e che secondo me è consigliatissimo un gioco da tavolo per giocatori ovviamente più navigati quindi qui per un gruppo di esperti non è sicuramente un gioco anche per il tema trattato da metterci dei ragazzini la ristampa di una delle innumerevoli ristampe perché è un giocone della madonna di Dead of Winter di cui troverete anche di questo il video fra qualche giorno sul canale ed è un gioco molto interessante perché vi fa lavorare tutti quanti insieme in un gioco cooperativo dove dovrete gestire un rifuso e mandare i vostri uomini in missione, i vostri sopravvissuti in missione per prendere risorse ovviamente per resistere non soltanto alla morsa della fame e comunque anche delle malattie e tutto quanto ma anche all'assalto degli zombie ed è un gioco cooperativo veramente molto bello che richiede un po' di tempo perché le partite richiedono anche quei buoni 120-140 minuti e non si può giocare in solo, non ha una modalità in solo, bisogna essere almeno in due però è un gioco veramente interessante, poi la componentistica è spettacolare per quanto non abbiamo miniature anche il costo è ridotto appunto per quello, ma abbiamo degli standi però sono fatti bene sia gli standi degli eroi che gli standi degli zombie sono fatti bene quindi comunque si gioca bene anche senza un comparto di miniature alla ad esempio Cmon quindi non erano assolutamente indispensabili però è un titolo veramente interessante che mi sento di consigliare come regalo di Natale si trova ancora tuttora nei negozi, l'ha da poco distampato Asmo d'Italia ed è veramente bello perché se vi piacciono i giochi della Fantasy Flight e soprattutto volete giocare veramente un bel titolo Apocalisse Zombie ma nel vero stile di Romero di un tempo questo Dead or Winter fa al caso vostro e sono convinto che ci farete delle partite disumane e vi ci divertirete da morire, poi una partita tira l'altra come gioco di ruolo vi consiglio assolutamente l'ultima torcia della Serpentarium perché è il gioco di ruolo o meglio il regolamento che mi ha colpito maggiormente negli ultimi anni perché è un sistema veloce, immediato e questo davvero può essere un gioco apprezzabile ed apprezzatissimo per come lo è realmente sia dai fan di Dungeons & Dragons che come me giocano da ormai 30 anni quindi gente navigata che troveranno comunque un regolamento forse un po' troppo semplificato ma snello e che ricorda molto D&D prima edizione per farvi capire ma anche per i neofiti perché se ci mettete un ragazzino o volete introdurre qualcuno che non ha mai fatto un gioco di ruolo c'è il nano che potrebbe fare lo sventratore o il martello tuono o la barba lunga o il minatore no, qui il nano è il nano, cioè hai capito? qui è bello questo gioco, è immediato, è veloce perché così c'è la razza e la classe ma è veloce cioè anche le abilità sono 5 fondamentalmente quindi è almeno un regolamento iniziale poi sennò diventa molto di più da qui scegliere quindi è un gioco molto veloce dove si vanno a tirare uno o due dadi tenete il risultato maggiore e dovete andarla a comparare con la difficoltà o con il livello di difesa di un nemico quindi comunque è un regolamento immediato e c'è tantissimo materiale perché la Serpentarium sta tirando fuori uno sbotto di roba e tutti quanti i manuali di espansione vanno a creare un mondo vario pinto e verosimile che ricorda molto come idea vario pinta ad esempio i Forgotten Reams per farvi capire c'è un po' di tutto c'è la parte dei vampiri, la parte dark la parte bella sbrillucicante da elfi e cose del genere da fatine ed è un gioco di ruolo secondo me per tutti e poi la scatala è uno spettacolo perché ricorda molto D&D, scatola nera, scatola rossa e tutte le altre della prima edizione lo aprite e lo comprate all'interno ci avete fine dadi e siete pronti per giocare quindi come gioco di ruolo mi sento di consigliarvi assolutamente per divertirvi al tavolo e fare lunghe durature campagne l'ultima torcia e per un gioco di schermaglie in ambientazione, lo sapete, mia preferita Warhammer 40.000 Kill Team, Warhammer Kill Team Octarius la nuova scatola di base della nuova edizione di Warhammer Kill Team uscita da circa un annetto dove come due Kill Team all'interno avremo da una parte gli orchi e dall'altra i Dead Corps of Krieg che sono miniature di una bellezza disumana e perché ve la consiglio? perché secondo me è la giusta scatola per introdurvi all'ambientazione di Warhammer 40.000 perché costare, si sa che queste scatole magari vanno a costare anche 120-150 euro però Kill Team, soprattutto in questa nuova versione è un gioco velocissimo, immediato dove vi fate una banda di 5-6 miniature quindi non dovete spendere 600 euro per farvi l'esercito di Warhammer ma vi comprate la scatola che si trovano la scatola delle bande tra l'altro qui ce n'è già due dei Kill Team e siete pronti per giocare tutto lì poi se nel futuro vi verrà voglia di provare qualcosa di alternativo per fare magari invece di usare uno col fucile laser col bazooka e non avete la miniatura ve la comprate voglio dire non è quello lì un problema è andata a sostituire però è veramente interessante perché ci si schiera sul campo si giocano un tavolo piccolo anche come questo si mettono uno schieramento da una parte e uno da quell'altra con elementi scenici nel mezzo che sono già compresi nella scatola e giocate per mesi già con questa scatola di base potete giocare fino a che non vi passa la voglia ed è molto bello perché c'è anche la modalità storia hanno introdotto come nel nuovo regolamento di Warhammer 40.000 anche la modalità storia quindi è una modalità campagna fate tante battaglie e chi vince magari guadagna qualcosa o va in una certa direzione tira magari il fronte dalla sua parte ed è un gioco veramente molto interessante veloce e contenuto spettacolare in conclusione questi sono i consigli per il regalo di Natale e vi ho consigliato tutta quanta roba che si trova ancora ovviamente di vari generi e vario costo però comunque secondo me i titoli fra i titoli più interessanti e che sono ancora reperibili potete ordinare tutta quanta questa roba direttamente dal nostro negozio sponsor primo link in descrizione e insomma in pressione in tutti i miei video gioco libreria semola non soltanto al miglior prezzo sul mercato ma se andate sul sito il prodotto è finito pallino rosso o proprio Warhammer Kill Team non è presente in lista contattate Corrado il supporto il proprietario della gioco libreria semola e fateli presente che arrivate dal canale di Coridan li scrivete guarda arrivo dal canale di Coridan sono un follower ho visto che Kill Team non ce l'è più in lista ma si potrebbe ordinare lui farà il possibile ovviamente umanamente se lo ritrova per ordinarvelo al miglior prezzo sul mercato se superate la spesa di 79 euro spese postali gratuite in tutta Europa quindi non pagate manco la spesa postale in più usate il mio codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% su tutti gli acquisti dalla gioco libreria semola ed è un servizio perfetto mi raccomando se dovete farvi un regalo fatevelo sempre dal nostro negozio sponsor gioco libreria semola perché vi trova anche roba fuori catalogo di solito quando andate su un sito contattate eh peccato quel gioco l'ha finito o non ce l'ha andate da un'altra parte a comprarlo se trovate un gioco finito sulla gioco libreria semola o che proprio non è in catalogo comunque contattatelo perché ci sta che ve lo faccio a trovare anche se magari era fuori catalogo o finito sul sito il servizio è eccellente ciao ragazzi alla prossima e buon Natale fatevi un bel regalo se questo video ti è piaciuto lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita primo link in descrizione primi link che trovate ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale facebook al canale mio di live twitch alla mia pagina instagram e alla mia pagina tiktok che sono sempre aggiornate e su twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata mi raccomando iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale youtube lo troverete sempre lì ciao alla prossima